Radio Radicale, siamo con Enrico Borghi del Partito Democratico, responsabile sicurezza del PD, della segreteria del PD e membro del COPASIR, per parlare delle disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, il decreto ucraina che inizia oggi l'iter nelle commissioni congiunte difesa ed esteri. Allora, innanzitutto è preoccupato della situazione, del fatto che la la Russia ci guardi con maggiore ostilità per le sanzioni che stiamo applicando? Ma preoccupato sì, più che altro per la questione generale che si sta sviluppando, per le gravi escalation che si stanno verificando in Ucraina, che colpiscono come si vede civili con un'attività indiscriminata di assassino, perché non si può definire diversamente, di donne, di anziani, di bambini, di persone totalmente inermi che hanno come unica colpa quella di tentare di mettersi in salvo. Quindi la situazione dal punto di vista umanitario in Ucraina ha decisamente superato il livello di guardia. Per quel che riguarda invece la questione più specifica della sua domanda, io credo che queste cose facciano parte di un artificio retorico che la Russia sta utilizzando in maniera anche piuttosto, come dire, poco responsabile, perché minacciare in maniera indifferenziata e irresponsabile buona parte dell'emisfero occidentale è contestualmente poco responsabile, ma anche irrealizzabile, a meno che non si pensi ad escalation che neanche vogliamo, come dire, definire e prendere in considerazione. Quindi lo strumento del decreto che variamo oggi, o meglio che iniziamo a discutere oggi per vararlo, spero nel più breve tempo possibile, va nella direzione di sostenere la resistenza ucraina che, come si è visto, necessita di un supporto molto concreto. Nel decreto non c'è, voi fornite anche del materiale per gli ucraini, ma non materiale di tipo letale, sia per difendere gli ucraini, ma non di offesa di guerra. Sì, dopodiché, come lei sa, è stato adottato un decreto interministeriale a valle della risoluzione votata la scorsa settimana, praticamente all'unanimità. Ministero degli Esteri e Difesa? Sì, che dà seguito rispetto a quella indicazione parlamentare di cui si sta discutendo nel Paese anche in questi giorni. Voi rafforzate anche il fianco est dell'Alleanza Atlantica, e anche nel Mar Nero, e anche nei Paesi Baltici. Ho visto che l'impegno economico è abbastanza consistente. Allora, voi fate una proroga o fornite nuovi, ho visto che fornite anche della dotazione in più per le ambasciate, per il sostegno alle iniziative diplomatiche, ma anche per uomini e mezzi. È una proroga anche? È una proroga di quello che c'è già, più un incremento in termini di dotazione che corrisponde al salto di livello che si è verificato a seguito dell'invasione. Chiariamo bene che stiamo parlando di un contingente nell'ambito delle previsioni NATO, che non avrà finalità offensive, che non entrerà in Ucraina, che non avrà il compito di interfacciarsi militarmente nel teatro ucraino. Naturalmente corrisponde ad un obbligo, un vincolo di solidarietà e di impegno nei confronti degli alleati che discende direttamente dalla modifica dei piani di sicurezza che è stata compiuta a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. C'è l'accordo di tutte le forze politiche? Mi sembra che anche guardando la mozione... Io auspico che questo lo sia, anche perché il voto che c'è stato in aula sulla risoluzione la scorsa settimana è stato in questa direzione e credo che nei lavori che ci accingiamo ad aprire si possa trasferire questa unità del Paese. Ricordiamo che l'unità delle forze politiche è un segnale anche importante nei confronti delle forze armate, degli operatori della sicurezza, dei cooperanti, dei giornalisti che in questo momento sono presenti in quelle realtà molto difficili e che hanno bisogno di trovare un supporto, un ausilio e un sostegno il più largo possibile da parte del Paese perché non dimentichiamo quello che stanno lavorando per noi in condizioni di estrema precarietà e di sicurezza molto labile. La ringrazio, grazie a Enrico Burghi del Partito Democratico. Buon lavoro.